Ciao, sono qui per spiegarti che cos'è il corso Pilates in Tasca. È una modalità nuova di allenamento pensata per te che non hai tempo di allenarti tutti i giorni. In questo modo potrai stabilire una nuova routine quasi quotidiana. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì ti invierò direttamente sul tuo cellulare in modo che ti faccia da promemoria un messaggio contenente un video di massimo 10 minuti in alta risoluzione e di facile accesso con cui ti potrai allenare. Nel video ti darò varie possibilità che corrispondono a vari livelli di preparazione fisica. Io ti invierò un messaggio in un gruppo WhatsApp di sola ricezione dedicato a Pilates in Tasca ma tu potrai scrivermi in qualsiasi momento tu voglia per parlare con me di eventuali difficoltà o perché no per alzare il livello e l'intensità del tuo allenamento. Buon lavoro! Buon lavoro!